Gigi, conquistata la vetta della classifica in solitaria, è tempo di pensare al Gravina. Sì, domani abbiamo questo incontro, questa finale con il Gravino. Sappiamo che è una buonissima squadra, prima il girone pugliese, ma noi siamo costretti a vincere. Come del resto in campionato dobbiamo sempre vincere. Una gara che non si preannuncia per nulla facile, anche per l'ambiente. Abbiamo visto qualche video dei tifosi del Gravina, ci attenderà un clima infuocato domani. Sì, hanno un pubblico caloroso, ma noi siamo abituati a questo, perché anche noi in casa abbiamo questo tipo di pubblico, quindi per noi non cambia niente. Una partita da vincere a tutti i costi, i paradossi del fatto di dover giocare la terza con il Gravina che ha vinto 2-0 con la Vultur. Come approccerete domani e che tipo di gara pensate di giocare? Purtroppo il regolamento dice che dobbiamo per forza vincere, ma nello stesso tempo noi ci proviamo, perché siamo consapevoli delle nostre forze. Hai riposato contro il Castel San Giorgio, domani rientri al centro la difesa. Sarà probabilmente un aspetto fondamentale non subire gol e difendere al meglio. Sì, perché domani dobbiamo stare tranquilli, con equilibrio, perché il gol lo possiamo fare anche il secondo tempo. Quindi senza frenesia, perché comunque la partita dura 90 minuti più recupero e c'è la possibilità di fare gol anche al 90esimo. Dopo la partita con il Gravina ci sarà la trasferta di Sant'Antonio, però è inevitabile che il pensiero vada a quella con il Sant'Agnello. Praticamente in campionato vi giocherete tutto in quella partita. Sì, è una partita fondamentale, ma il nostro pensiero dopo Gravina è il Sant'Agnello Abate, perché sono tutte partite trappole per noi. Contro la Nocerina tutte le squadre vogliono fare bella figura, tra l'altro il Sant'Agnello Abate si deve salvare, quindi lascio immaginare come affronteranno questa partita. L'appello del capitano ai tifosi che anche domani saranno vicini alla squadra, nonostante la gara infrasettimanale e la distanza di Gravina. Non c'è da fare nessun appello ai tifosi, perché comunque sono sempre presenti e amano questa maglietta, quindi non ci saranno problemi, verranno lì e ti faranno 90 minuti. Gravina 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 Gravina